ragazzi buon pomeriggio, anche se l'ora è un po' tardi, benvenuti a un video pranzo io adesso sto tornando da mare e quindi vediamo un po cosa esce da questo panino ben sincero il panino è un po' tardi, se lo posso continuare, non è un po' tardi, non è un po' tardi ecco cosa esce esce è uscita della carne con le zucchine ok vediamo un po' un attimo ragazzi un attimino ecco iniziamo da provare buono, buon metro ecco lo consiglio anche c'è uno che è tardi sono quasi le 5 però lo consiglio la carne non è con le zucchine molto buono ragazzi ecco ecco ragazzi continuate sempre a seguire i miei consigli sui video pranzo ok? ciao ciao ciao